del festival italiano di questa sera si tratta di un gruppo che ha la ribalta da parecchi anni sono i Mattia Bazzar ormai festeggiano il ventesimo anniversario oserei dire e come mai sono ancora la ribalta e vanno così forte perché hanno saputo rinnovarsi ogni anno cambiare genere e soprattutto anche il loro look perché sapete che al giorno d'oggi conta molto anche come ci si veste come si presenta davanti al pubblico di dove sono originari questi ragazzi allora nascono artisticamente a Genova nel 1975 i Mattia Bazzar sono Laura Valente, Carlo Marrale, Aldo Stellita, Sergio Cossu e Giancarlo Golzi ecco hanno fatto molte canzoni di grande successo tra le quali stasera che sera per un'ora d'amore solo tu e dirsi ciao vacanze romane è dedicato a te vedete ci sono molti giovani qui che apprezzano queste canzoni quindi saranno lieti di rivederli intanto vi diremo che l'orchestra sarà diretta dal maestro Mario Natale che è qua dietro di me la canzone è scritta da Stellita Le Valente il titolo L'amore non finisce mai con i Mattia Bazzar grazie 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 ca grazie 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 cianco grazie La tua speranza, e se l'amore è un mito che non muore mai, dimmi che l'amore non finisce, non andare via fuori, è già freddo ormai, e tra le braccia mie io ti riscalverei. Ma l'amore che cos'è, quando ci prende per la mano, ma l'amore che cos'è, e quando ti voglio sei lontano, ma l'amore che cos'è, 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 come vorrei farti un sorriso, e lasciarti un segno che non vada via, Se l'amore, amore, che amore sia, non finisce mai, la voglia di paradiso, ma a me basta per te, E sentirti vicino a me, ma l'amore che cos'è, o quando ci guarda da lontano, ma l'amore che cos'è, E l'urlo o il volo di un gabbiano, ma l'amore che cos'è, cos'è, ma cos'è, E se vuoi, l'ultimo bacio, ma se l'amore è un mito che non muore mai, dimmi che l'amore non finisce mai. E se vuoi, l'amore non finisce mai. I Mattia Bazzar, l'ultimo gruppo presentato questa sera, Naturalmente rivedrete I Mattia Bazzar e tutti gli altri che abbiamo già presentato, In occasione della finalissima di Dopodomani, e sarà Dopodomani che sapremo anche qual è la canzone più gradita. Beh, intanto vogliamo vedere un po' come vanno le cose là, a costa... Eccoli qua, ci siete tutti? Sì, I Mattia Bazzar! Grazie. 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 Grazie.